ammettere di altra ragazzi che che si tratta sin credo e qui con me c'è gavri 453 ragazzi ok questo quel secondo 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 gameplay su mori croco è una partita di zombie una c anche io sto giocando più o meno hotel 6 2 6 se avete giocato prima siti di barbo nazi perchè sto gioco fantastico e ho vinto anche l'ultima cosa non è vero quanto non ho fatto che è successo sono svenuto ragazzi questa qui è una delle modalità più fighe del gioco perchè ci sono diverse persone quindi si è più faghi del che è due mi si spegnerà il pc me lo sento qui sto massacrando un nerd ok adesso mi hanno massacrato un nerd ok vedete ragazzi sono passato dalla parte dei ragazzi io direi che se tutto va bene la cosa la la il gameplay lo potrei fare anche adesso dove finiamo il video no però no voglio voglio accettarmi che non laghi come un pazzo sto gioco ce la voglio ma perchè lui si deve ancora scaricare in una buona minchia io il micro volt io non sono già scaricato non è vero ragazzi però non io però prima di 19 agosto quando avrò non mi dico ma che però computer decente con da meno 3 processori di scheda video buone io ho la bella con diranno gli farò c'è al massimo parlo così skype come barboni però ma sono le posso fare perché a me la da troppo il pc c'è il mare sparare sarei già morto ah prima del meccano faremo video vedete ragazzi quanto è bello questo giochetto quanto è bello quanto è bello guardate domini che ballonzolano ok adesso la parte difficile lo sapete qual è è trovare il nemico ah ragazzi cosa voglio dire anzitutto scusatemi se non vi sto non come dire non parlo tanto nel video ma perchè sto giocando lo sto già testando sto gioco poi io vi poi è morto si ragazzi vi consiglio micro volt in una maniera sproporzionata troppo bello questo gioco cioè guardate qui quanto si può saltare dai nessun gioco c'è che si può saltare così si può ballare se volete fare una partita come è registrata mi dovete eh addare ok non notate questo nome in alto sinistra caccapuzzolente perchè non riuscivo a creare un account ero sbroccato e quindi mi andava di creare questo nome se è capito io gli zombie dico una parolaccia a caso casuale guardate la parolaccia casuale e vai non sono io no ho spiegato spiegato ma vaffanculo ok ragazzi questo qui secondo me era un citer no 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 non ero un citer guarda guarda non so comunque ah si quello di alto al 626 ha deciso in one what the fuck ah no non è un citer guardate ragazzi sto salendo sopra la mappa ho un punto scusate se faccio schifo ma inoltre con i riflessi bassi perchè sono le due di notte ed è l'unica ora che posso registrare vedete vedete lo so è deprimente mancano due persone mancano due persone un server di tutti famosi un server yes sap mai dico no no ah ragazzi anzi tutto volevo dire se Dory Bosco ci sta guardando mi stai simpatico ok pure lui link in descrizione tanto spam gratuito è proprio we are the power mi sento figo ho spammato volevo dire che in verità io non so in verità io non sono Gabriele sono una marionetta io 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 non sono di la sono tua madre oh cazzo no adesso poi nel video metterò Bobo Struisen uuuu uuuu no no io gioco minecraft bella oh no di lana forse anche i campioni di minecraft lo posso fare perchè stranamente minecraft incomincia a funzionare cioè non va benissimo come andrà bene il Mac ok la partita è finita di nuovo è durata poco lo so eh vabbè ragazzi quindi cosa devo dire vi salutiamo al prossimo video ciao ciao